Se vi state chiedendo cosa ci fa Gesù coi capelli corti e perché gioca alla Wicked League, questo video è giusto giusto per voi. Ciao, 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 ciao. Due cose velocissime. Primo, ti aspetto alle tre in live su Twitch. Playoff di Futschampion. La prima volta che abbiamo giocati, avete visto com'è finita col Joyparotto. Seconda volta che lì abbiamo giocati, ancora non è uscito il video. Ho rotto il monitor. Per sbaglio, ho rotto il monitor. Dove uscirà il video? Sul secondo canale del Turi. Direte, ma se fai fatica a gestire uno, come fai a gestire due? Attenzione. Allora, prima calmi con le parole perché è un momento che scatta la scintilla. Mettiamo le mani addosso. Nel secondo canale, ragazzi, l'editing si va a far fottere. Cioè, proprio tagliacucci, tagliacucci, tagliacucci. E così posso far uscire anche molti più video, molto, e stare a passo con le live. Che, se no, yafas. Vi lascio il link in descrizione. Si chiama Turivar. Così lo dovete dire. Vi andate a scrivere, accendete campanelle, sapete voi cosa fare. Fondamentale, fondamentale. Signori, benvenuti nella prima live dell'anno dove giocheremo il Food Champions. Mi sono preparato per vendere. C'è bisogno di un aiuto divino. Eccoci qua. Oggi non mi insulterò. Oggi. Si sarà un macello. Niente pus. Apostolo Ammosa. Lo sospende a dieci minuti. Lei non sarà invitato alla cena. Il mio primo avversario dell'anno. Roi FC. Squadre morbide ci sono in queste Wigel League. Forse Lucas non ha capito che noi siamo quelli bianchi. Questa era un'azione che... La mia mamma è impazziva. Della Madonna. Eccolo! Eccolo pure io festeggio! Che palle! Ma non si può neanche festeggiare! Eccola! Vai! Così no! Così no! Così no! Una corona di spine in testa per... Per rimuovere i miei peccati... Valsemano ha aggiornato il comando prima che finisce la partita? Allora. Sono duemila anni che perdono chi sbaglia. Ho perdonato di tutto. Ho perdonato chi ha fatto il birichino con la moglie altrui. E ho perdonato anche certe volte chi ha ucciso. Ma mi sono rotto il cazzo! Di perdonare Valsemano. Basta! Da oggi non sarei più modi. Attenzione ragazzi. Momento di panico. Ho visto una crepa sul monitor. Un cappello. Quanta monna stavo studiando tutta l'acqua santa. Perché prima ho tirato la corona. Porco Giude! Porco Giude! Capisco tante cose ragazzi. Sono voluto scendere nel mondo dei voi comuni mortali. Per capire come mai... tra il venerdì, il sabato e la domenica mi chiamano così tante persone. Mi chiamano, no? E ho capito tutto. Ma che stop è son? Non ho trovato un joyper, mi sono calmato. Ti ho messo così tanto? Cioè non è un miracolo questo. Non entra ragazzi, non entra. C'è qualcuno o qualcosa che non vuole farmi... Non mi vogliono far far... DIO PALLO! C'è un pollo? Ma... Oddio! Ma mamma mia sonno! Stai guardando, sto passaggio di scorpione era la cosa più bella che ho visto nella mia vita se veniva. Fatemi uno spam e ti che bel gioco! Divino! Mi sono scomposto tutto, vi chiedo scusa ragazzi. Io ti voglio nell'Olimpo, ti voglio. Qualcuno di voi sa cavare il malocchio, per favore. Gli altri giocano un altro gioco, c'è un cazzo da fare. Mancino, piede debole. Primo palo con Navasli. Sei pali in tre partite ragazzi, ci sta avendo anche molta sfortuna. Quindi continuiamo un po' così, continuiamo, dai. No, no, ma che è? Sì però ragazzi, non... No, così non può andare. No, per... No, no, no. No, giocava la statura, per me. Giocava la statura. No, no, qui ragazzi, qui... Finisce in tragedia, io ve lo dico. E quinto mi dà il punto? Ma siamo qua, giochiamolo. 3-1. Bisogna aggiustare solo due cose. Il bel gioco c'è. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì No, vabbè, ragazzi No, 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 no Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo Ho preso un'altra traversa, ragazzi Ma che braccio ho messo su, cazzo Ha mancata, l'ha mancata No, 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 no One Piece, orca boia, contro One Piece faccio fatica a giocare Madonna, ma che braccio, non sto su, cazzo Eh, io direi 1-0, direi Non devi sbagliare, Matteo Non devi sbagliare, Matteo Contropiede magistrale Questo si può insegnare all'università del bel gioco Fai davvero? Fai davvero? Non ti cazzo di gol che sbaglio, ragazzi Sono un pippone atomico, prende l'ansia quando arrivo davanti porta, dai Ma è giusto, no, ma è giusto Ma è giusto che io prenda gol, ragazzi Ma è giusto che io prenda gol Ma cioè, ma arrivo davanti porta 25 volte A parte i miracoli dei portieri, ma sbaglio tutte le scelte, sbaglio Sono un grande, non sbaglio niente Ogni volta che sono davanti porta sono micidiale Cazzo fa, mi butta fuori? Che fa sto baghino? Oh, marziale Eh, me devi di do cazzo tiri Alla prossima sei fuori Abbiamo ammazzato Federico Oh Devo respirare, dai, devo respirare Devo respirare un attimo Cioè vi siete inculati? Questi hanno fatto il hyper motion Ma di chi è sta partita? Ma dove l'avete registrata? Ma chi? Ma che partita era? Ma chi giocava? Scapoli contro ammogliati Senza rallentamento Si gode solo a metà Oh, comunque quest'anno vanno lisce le partite Madonna Vanno lisce Attenzione che il birichino si presenta davanti Io prendo i gol più brutti d'Europa, ragazzi Lucas è il più forte del mondo, ragazzi Non lo caverò mai Me lo porto fino a giugno Me lo porto E siamo al sesto mese Molto contento di sabbarmi da te Queste sono parole vere Queste sono parole che vengono dal cuore Oppure dall'alcol Posso dire una cosa? A me MD quest'anno mi fa caccare Questo è perché sei dei più belli Era un cross Secondo me se lo ritento mille volte Non mi viene Non ho bestemmiato, ragazzi, vero? Ho detto L'orto è mio Ho detto L'orto è mio Cazzo è entrato uno Mi fa Oh, questo è il mio orto Come il tuo orto? L'orto è mio Gol da giro qua, raga Gol da giro Zio cane Ho detto Mio zio ha un cane, ho detto Un barboncino Bello, eh Bello, ragazzi Bello Proprio un bel cane Ci rendiamo tipo di che gol sto prendendo, vero? Buongiorno al pubblico maschile Con tre vinte su quattro faccio livello due Dai ragazzi, vinciamo ste partite Su, dai Io mi si presentano dieci tiri Dentro ne metto uno Questa gli ha la para? No Questa è una partita in cui C'ho il dio che mi guarda Dai Direi direttore che non abbiamo No? Sono sicuro che l'avversario Stava qui per il terzo e secondo posto E FIFA sta dicendo Not today FIFA gli ha fatto così col dittino No, 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 no In dei momenti UFC UFC sto gioco No, no, no No, no, no Non è vero Non è vero, ragazzi Non è vero, dai Non è vero Non è vero che è vero No, non è vero, dai Non è vero Non è vero che è vero No, non è vero, dai, raga Non è vero No, fermi tutti È vero? Ditemi se è vero Qui dentro ci deve essere Un litro e mezzo di vodka Spero che sia per quel motivo Sono ubriaco Se mi ferma la polizia Ho 6 di tasso alcolemico E quello può essere uno dei motivi Per cui questo non è rigore Ma i motivi sono due O è l'hypermotion di Khabib contro McGregor O l'arbitro è un corrotto Matthew Miziz è un corrotto Terzo L'arbitro si è rotto palesemente i coglioni Voleva andare a casa a chiamare la moglie Ha detto Senti, dai, stai 3-0 Vaffanculo Ci servono altre due vittorie Bremen FC E quinta questo Gli regalo la sabba vita Che voglio nome e cognome Di sto ragazzo Karlob Warriors Era palesemente fallo Ragazzi Me lo fai un gol Lucas Per favore Grazie Che cazzo fa sto idiota Ti vendo gli organi E' buono Gli ho fatto un gran passaggio Che non mi aspettavo Portieri Tutti i fenomeni I miei sono i più rincoglioniti della storia Cioè Queste partite mi gioca un Bappé Bappé un milione e cinque Guarda come festeggia Guarda come festeggia Ah 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 ah